Io mi farò una bella treccia. Salve, buongiorno, come posso aiutarla? Mi potrebbe fare un'acconciatura super bella? Ma certo, però prima di tutto bisogna spazzolare i capelli. Signora, che bei capelli volti che ha! Sa, molte persone sono venute qua e hanno sempre accettato che io gli mettessi la molletta. Cosa mi sta facendo? Fatto. A posto? Sì. Grazie, molto gentile. Vrei faccio il conto? Certo. Ma senti, visto che siamo ammigli, non è che mi potrebbe fare un po' di sconto? Sì certo, perché tanto noi non paghiamo le tasse. Ok. Ogni anno a Vicenza, nel settore benessere, il giro di affari di operatori abusivi che non pagano le tasse vale milioni di euro. Un ammanco che impoverisce lo Stato causando indirettamente i disagi di cui ogni giorno ci lamentiamo. E questo è il futuro che vogliamo per i nostri figli? Pensaci, la tua bellezza non è un gioco. Sasso, carta, forbice. Sì. Sì.